Che volendo potremmo uscire anche oggi, no Ufo? Vabbè, sì, è un disco che sicuramente qualcuno di voi conosce che volendo potremmo far uscire anche oggi Perché no? Ma comunque sì, sicuramente oggi ce lo ricordiamo e ce lo dovete ricordare voi, non ci rimanete male ma sì, rimaneteci male perché tutto è rimasto uguale Andate tutti al fattuto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!